Benvenuti a Twitter, benvenuti al Sapore Giovane della televisione. Siamo al mare e come vedete in queste immagini, mare splendido, mare azzurro della nostra isola, la Sicilia. Si parte forte, si parte subito con i premi Telefantini 1996 che Twitter sia giudicato per il secondo anno consecutivo. Davvero un bel traguardo. In questa puntata, nel sommario, vi preannuncio un'incursione particolare della nostra ombretta grasso a casa D, lo scopriremo dopo, e vi preannuncio anche una sorpresa. Avremo finalmente in carne ed ossa a Twitter. E allora, non perdetevi questo appuntamento, incollatevi davanti ai teleschermi, si parte subito con i Telefantini che sono stati consegnati a Vizzini la scorsa settimana. E dunque, a tutti il buon ascolto, la buona visione, linea a Carla Previtera. Al sole di primavera fioriscono i premi dedicati alla televisione e ai suoi protagonisti. Telegatti, Teleratti, Surrisi, Canzoni TV e in Sicilia, televisioni, elefantini, fantini e per i più bravi, i Telefantini, seconda edizione a Vizzini, capitale dell'agriturismo. La commissione giudicatrice ha scelto alcuni programmi e stasera verranno premiati. Perché sei qui? Perché sono qui? Perché mi hanno detto che stasera ci sarà la Notte delle Stelle, ci sarà un... Ma sei premiato? No, ma quella premiata no. E poi questa è la taglia. Gli amici di Telesud e Telescirocco di Trapani, chi è Telesud e chi è Telescirocco? Telescirocco e Telesud. Sono ospite, non lo so se sono premiata, non so niente. Come mi chiamo? Come mi chiamo? Non lo so, come ti chiami? Non lo so, come ti chiami? Sarremo ti ha dato la testa? Sì, sì, sono in passione, mi sono montata la testa ragazzi. Vincenzo Spampinato, buonasera, benvenuto, premiato come personaggio. Ah sì, sono stato premiato. Non è la Rai, non è Canale 5, ma allora chi schifio è? Le chiacchiere sono finite, cominciamo. E a noi ci segue direttamente Antonio Ricci, perciò sai, siamo sotto la sua. Io sono nato e sono, voglio dire, diventato quel po' che sono, quel pochino che sono, anche grazie all'emittenza, diciamo così, privata, libera. Ma tu perché sei qui? Eh no, solo di passaggio. Giuro, solo di passaggio. E basta. Per la ricotta di Vizzini? Beh, c'è me, c'è me, solo di passaggio. Il fascino della radio sia insostituibile. Ho fatto televisione, mi trovo veramente bene. Bravi. Presenteremo alcuni dei pezzi dell'ultima collezione che hanno dei riferimenti molto precisi a un discorso prettamente siciliano. È un programma di quelli che io ho sempre seguito a volentieri tutte le volte che sono venuti in Sicilia. Ne hanno decretato un successo incontrastato nel campo dell'intrattenimento, puntando su mode, tendenze e abitudini delle nuove generazioni. Twitter di Teletna di Catania. Faremo lo spettacolo a Teletna, invece lo preparatevi, Lodato, Deghini, tutto è fuori, per questo anno entriamo noi, facciamo Twitter 2 la vendetta, lo vamo a tutte le domande. Io amo molto la televisione, amo poco i personaggi televisivi. scuola, sono stato il primo telecomando di famiglia, perché c'erano solamente due canali, appena c'era la possibilità di vedere l'altro canale, come uno scalpellotto, dovevo andare a cambiare canale. E a noi ci segue direttamente Antonio Ricci, perciò sai, siamo sotto la sua giurisdizione. Sono una ragazza molto semplice, quindi sai il trucco mi mette in difficoltà. Mi avete colto nel punto vulnerabile. Posso darti un altro bacio? E' l'altra parte. A voi la linea.